Nuova area di sosta a Cava dei Tirreni, 100 posti auto e uno spazio verde per i bambini. La Metellia Servizi, presieduta da Enzo Bove, continua il suo percorso, inaugurando il nuovo parcheggio di via Corradino Schreiber per residenti e a sostegno del santuario di San Francesco. Apriamo stamattina l'area di via Schreiber dotata di 100 posti auto a sostegno sia del santuario ma anche dei residenti della zona. Riteniamo che questa è un'opera importante che entra in quel progetto di sosta a Cava dei Tirreni, un'area messa in sicurezza e videosorvegliata come tutte le altre della Metellia che noi stiamo gestendo. Un'area a cui è annesso anche un parco giochi, perché? No, noi abbiamo voluto rendere quest'area, come diceva il sindaco stamani anche all'inaugurazione, un'area verde e quindi non più una colata di asfalto ma un'area come tu hai visto fatta con alberi e quindi ci stava bene anche un parco giochi per bambini, in un'area dove ovviamente, in una zona dove ovviamente parchi giochi per bambini non ce ne sono. Prossime iniziative sul fronte sosta a Cava dei Tirreni? No, noi continuiamo questo inserimento, questa integrazione tra le nostre aree di sosta e continuiamo quell'azione di tranquillità e di serenità per chi viene a Cava dei Tirreni nel parcheggiare la propria auto e ritornare a casa tranquillamente.